Quanto è importante l'ambientazione in una storia? Come sempre provo a rispondere in base alla mia esperienza. Come autore indipendente ho ambientato tutte le mie storie qui nella città di Savona. Eppure, molti anni fa, mi stava stretta. Mi pareva una città piccola, anzi piccina, uno scenario orribile, troppo provinciale per essere davvero interessante. Ma è un errore a mio parere, e provo a spiegare il perché. Spesso crediamo che una storia per interessare, per affascinare, debba per forza essere una grande storia, e ovviamente deve pure avere uno scenario adeguato, quello di una grande città. Ma cosa può offrire una città come Savona, con 60.000 abitanti che tendono pure a scendere? Il cuore del problema, come dicono quelli davvero bravi e che io provo quindi a copiare, è che in una città periferica come Savona ci sono un sacco di qualità. Quali? Una città periferica, o forse dovrei dire più precisamente marginale, consente di osservare meglio quello che davvero conta. È come se si dovesse condurre una specie di esperimento, ma con in più l'indubbio vantaggio di non avere un sacco di rumore di sottofondo. Che invece ci sarebbe come se per esempio vivessi a Roma o a Milano. Ma quando parlo di rumore di sottofondo non mi riferisco a quello prodotto dal traffico, niente del genere. In una città periferica si ha la possibilità di vedere, anzi di osservare meglio certi fenomeni. Per esempio il paese è in crisi da decenni, ed èppure in transizione verso qualcosa di differente. Se vivi in una città marginale questo aspetto si palesa meglio, è più evidente. Viceversa Milano, che pure lei è in crisi, può sempre travestirsi e raccontare a se stessa e agli altri di essere il motore del paese. C'è un'opera che chiamerei di mistificazione, che tende a nascondere quello che davvero accade. Qualcuno potrebbe però affermare che un autore, chi scrive insomma, che viva a Milano o a Savona, dovrebbe avere la medesima, vogliamo chiamarla, sensibilità? Non ne sarei così certo. Magari è possibile, ma è pure vero che l'ambiente in cui viviamo incide come, persino la casa in cui viviamo, alla lunga ci cambia, poco o tanto non importa. Se vivo quindi in una città come Milano, che deve per forza di cose difendere la nomea di volano del paese, alla lunga pure io sarò in un certo senso assimilato. Lo sarei molto meno se fossi un immigrato, e vivessi in qualche quartiere periferico. Ma di sicuro esiste una specie di retorica che avvolge alcune città. Altre, quelle distanti dal potere come Savona, non hanno questo problema, questo ostacolo. Quindi le storie che io racconto hanno uno scenario che non mi disturba affatto. È forse uno scenario più spoglio di quello che userei se vivesse altrove. Ma proprio questa essenzialità consente di osservare meglio certe dinamiche. Gli ingranaggi del motore, ecco. Non è necessario quindi avere una grande ambientazione. Semmai è bene avere una simpatia genuina per gli uomini e per le donne. Ricordandosi che non ci sono vite poco interessanti o banali. Semmai è la capacità di chi scrive che a volte è banale e incapace di trovare le cose interessanti. Alla prossima